Finanziamenti per 870.000 euro destinati al Bosco Incoronata, una richiesta a quella avanzata dal Comune di Foggia attraverso tre deliberazioni per avere accesso al finanziamento del POR Puglia 2014-2020, asse sesto azione 6.5.1, quindi presi totalmente dalle casse della Regione Puglia. Le prime due deliberazioni adottate dall'Aggiunta Comunale hanno la finalità di una stipula tra il Parco Nazionale e Regionale Bosco Incoronata ed il Consorzio per la Bonifica della Capitanata e della riqualificazione naturalistica di una cave in località Giardino nei pressi del torrente Cervaro. La cifra è di 700.000 euro che si va ad inserire nella tutela e valorizzazione della biodiversità terrestre e marina, mentre la terza deliberazione riguarda un progetto che rientra nell'ambito del programma LIFE che ha come obiettivo l'espansione dell'area fluviale per favorire l'evoluzione del bosco. E di questo progetto il finanziamento si aggira sui 170.000 euro. Questa iniziativa dovrebbe così garantire un maggior sviluppo al bosco incoronata che negli anni passati invece è caduto in stato di abbandono. Con questa richiesta di finanziamenti si spera che l'incoronata possa riemergere come luogo di attrazione non solo per finalità religiose ma così anche polmone verde della periferia foggiana.